Buongiorno, nel mio screensaver del tablet c'è la fotografia del mio avvocato che io amo moltissimo, è riuscita a vincere una guerra, stiamo incominciando i lavori, certo gli operai sono quelli che sono e domani ci si dovrà parlare, ma ho anche un perito tecnico, un architetto che gestisce i lavori qua dentro, che è una persona meravigliosa, sono circondata io da persone migliori di me, questa è la grazia che mi ha fatto il Signore, io ho un bruttissimo carattere, loro hanno un carattere stupendo.